Mi piacerebbe, siccome lo sto pensando, non voglio tenerlo solo per me, ma sto pensando a lei e sto pensando alla sua famiglia, sicuramente possiamo farlo tutti insieme, visto che è amatissima, un amico, una sorella, oggi vorrei invidicare, alleluia, a Rosario Marrone, un papà di Emma, che è volato in cielo, il mio pensiero per lui e per la famiglia, di Emma, questo per la famiglia, mi piacerebbe, siccome lo sto pensando, non voglio tenerlo solo per me, grazie. Grazie.